Amici sportivi, buongiorno dal coach Dan Peterson, oggi ho un profilo di un grandissimo personaggio nel basket italiano, Luigi Brugnaro, qui inquadrato a sinistra in primo piano, qui come sindaco di Venezia, lui è sindaco proprio di Venezia, qui con un palone della Ryer Venezia in mano, che lui è proprietario della società, dietro di lui misericordia che lui sta restaurando adesso, l'ha comprato lui con un lunghissimo tempo di ricostruzione e sta rimettendo a posto questo gioiello non solamente di Venezia ma del basket italiano e anche del mondo. Quindi dove cominciare? Ha preso in mano la società nel 2006 più o meno, Ryer Venezia, che società che era in serie B, aveva difficoltà, non aveva quasi un vivaio, un solo giocatore tesserato nel vivaio. Adesso vivaio ne ha 3.000 ragazze, 1.500 maschi, 1.500 femmine, ha vinto due scudette, 2017 e 2019. Chi avrebbe mai detto dieci anni fa Ryer Venezia vincere lo scudetto? Nessuno. Io per primo che l'ha fatto lui, ha saputo fare cose giuste, scegliere gli uomini giusti tipo Federico Casarin come general manager, adesso presidente perché come sindaco di Venezia non lo può più fare lui e poi altre persone che sono con lui sin dall'inizio non cambiano mai le facce. Questo vuol dire continuità, questo è il suo grande segreto, saper scegliere le persone e anche spaleggiarli, dare spazio, anche tempo per spagliare. Ha fatto qualcosa davvero eccezionale con questi due scudetti della Ryer Venezia, squadra competitiva. Lui è un uragano a dire poco, la umana è la sua ditta, sponsor proprio della squadra di Venezia, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, proprietario della Ryer Venezia, uomo vincente, uomo scudetto, amici sportivi, non posso aggiungere altro. Buongiorno, ciao a tutti.